La neve è arrivata abbondante, più del previsto, e già troppe sono le vittime delle cime bianche. Valanghe e slavine sono una possibilità non remota, visto le escursioni termine che è decisamente anomale. La stagione sciistica è iniziata prima del previsto e per le feste di Natale, in molte stazioni invernali, si registra già il tutto esaurito, ma se nel fuori pista si annidono pericoli a ogni scivolata non sono da sottovalutare i possibili incidenti sulle piste regolari. Là dove non ci sono appositi percorsi per gli snowboard non è del tutto difficile rischiare, nella migliore delle ipotesi, le gambe. Poi ci sono i soliti fuoriti testa che si lanciano a tutta velocità dai ripidi pendii senza minimamente tener conto di possibili ostacoli di percorso. Il più delle volte a farne le spese sono i principianti, gli sciatori, che tranquilli scivolano verso valle senza troppe pretese e soprattutto attenti a non cadere. Ma ci sono anche i soliti nonni o genitori che per stare accanto ai loro piccoli campioni invadono le piste a piedi. Non servono i cartelli di divieto. Così, dopo l'assicurazione obbligatoria per chi scia, adesso c'è anche la multa per chi cammina sulle piste. La prima stazione di sport invernale ad applicare la norma è Alagna, dove chi utilizza in modo improprio le piste dovrà sborsare 50 euro di multa. Il primo passo riguarda le piste di fondo, poi toccherà le altre. Gli italiani, come si sa, non rispettano il codice della strada. Difficile immaginare che possano rispettare il codice dello sci. Il primo passo riguarda le piste. Il primo passo riguarda le piste. Il primo passo riguarda le piste.